come riesco a produrre con tanta volontà tanto sforzo e tanta fatica perché in realtà sono film che sembrano realizzati con dei budget medi ma in realtà i budget effettivi sono molto bassi quindi innanzitutto cerco di occuparmi di tutte le cose che so fare quindi faccio la fotografia, il montaggio, tutte le cose che in parte sono dispendiose poi cerco di avvalermi di collaboratori che credono più nel progetto che nella pagnotta come si dice quindi facendo convergere tutte queste cose cerco di realizzarne cercando di studiare bene il progetto di produzione quindi senza avere eccessi, sprechi da nessuna parte, cercando di ottimizzare tutto, non regalando niente a nessuno e quindi in quel modo si riescono a realizzare con dei budget relativamente contenuti che se il film non è proprio un disastro puoi anche ritornarci quindi ogni film che ho fatto sono riuscito a ritornare dall'investimento, l'ho rinvestito in quello successivo e via dicendo fino a Rasputin sicuramente credo che sia l'obbligo di un regista a dover cercare nuove strade linguistiche, nuove strade di narrazione nel momento in cui il regista si limita a raccontare qualcosa di già visto, già vissuto, senza nessuna sfumatura non credo neanche più che abbia il diritto di farsi chiamare tale cioè questa è la prima cosa importante e soprattutto un messaggio a pubblico in generale ogni tanto aver la pazienza di vedere cose che non sono sulle loro corde anche per potersi aprire a nuove strade